Ogni imprenditore per sviluppare e far crescere l'azienda deve saper accettare la sfida del mercato globale. Le Camere di Commercio italiane all'estero sono il primo network internazionale di imprenditori che aiuta le imprese a individuare le migliori opportunità di business. Con le Camere italiane nel mondo si entra in contatto e si diventa parte di una comunità d'affari ben radicata all'estero con cui condividere le esperienze imprenditoriali. Una business community di 2.000 professionisti presente in 54 mercati con 20.000 imprese associate. Oltre 2.000 iniziative l'anno sviluppano 300.000 contatti d'affari Orientamento al mercato Sviluppo del business Assistenza personalizzata Assocamere estero da 30 anni collega territorio italiano ed estero attraverso le Camere di Commercio con azioni di promozione presso le imprese, i soggetti economici e le principali istituzioni nazionali e locali. Le Camere di Commercio italiane all'estero sono il partner più qualificato per sviluppare il vostro business nel mondo. Grazie a tutti.